La Corte d'Appello dell'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di assoluzione del giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Pescara e ha quindi condannato l'ex presidente della Regione Abruzzo Giovanni Pace e l'ex vicepresidente della Fira Vincenzo Trozzi rispettivamente a due anni e a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di concussione per induzione nell'ambito della vicenda su presunte tangenti nel mondo della sanità abruzzese. La Corte d'Appello ha però confermato l'assoluzione di Pace e Trozzi dal reato di associazione per delinquere e ha inoltre dichiarato prescritto il reato di abuso. I due inoltre dovranno risarcire come danno morale 100.000 euro alla Regione Abruzzo. L'avvocato Massimo Ciruli, difensore di Pace e Trozzi, ha annunciato che farà ricorso in Cassazione. Il ricorso in Appello era stato annunciato dai PM nel processo Sanitopoli, Giuseppe Bellelli e Giampiero Di Florio che in sede di rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Pescara avevano chiesto quattro anni per Pace e tre anni e sei mesi per Trozzi. Sempre la Corte d'Appello ha invece assolto l'avvocato romano Pietro Anello che era stato condannato dal giudice per le udienze preliminari di Pescara a quattro anni per associazione per delinquere, abuso e truffa gravata. Secondo l'accusa, l'ex presidente avrebbe ottenuto dall'ex titolare della clinica Villapini Vincenzo Maria Angelini imputato nella Sanitopoli d'Abruzzo quale contributo elettorale una presunta tangente da 100.000 euro ricevuta poi immaterialmente da Trozzi nella sede della Fira, la finanziaria regionale abruzzese. Sempre per l'accusa, l'ex patron di Villapini, Vincenzo Maria Angelini avrebbe poi pagato tra ottobre e dicembre del 2004 ad Anello 250.000 euro per ottenere una perizia favorevole. In quel periodo, Anello si stava occupando per conto della Fira degli aspetti tecnico-giuridici riguardanti la prima cartolarizzazione.